Con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia anche a Pratola Perigna si accende il Natale. Il centro storico si illumina grazie alle luminarie installate dalla ditta Coccovilli principalmente lungo il corso del paese. Le foto della Pratola Natalizia hanno fatto subito il giro dei social con i cittadini che si domandavano come mai quest'anno l'atmosfera del Natale stentava ad arrivare. Fra qualche giorno provvederemo anche all'accensione dell'albero di Natale, annunce sindaco Antonio De Crescentis. Abbiamo creato l'attesa e il ritardo è dovuto esclusivamente a motivi tecnici. Le luminarie sono costate poco meno di 5.000 euro alle casse comunali. Pratola nel frattempo si prepara al Natale più bello, la manifestazione che vede una tradunione fra l'amministrazione comunale, le associazioni spazio giovane e l'idea progetto e il comitato vesteggiamenti Madonna della Libera. Dalle 16 alle 19 di sabato 17 dicembre è un ricco programma con l'arrivo di Babbo Natale, la rappresentazione del presepe vivente e il volo delle lanterne, un appuntamento per scaldare il cuore di piccoli e grandi in attesa del 25 dicembre.